domani è san valentino cari amici san valentino è un giorno che tutti gli anni riveste un significato speciale ma soprattutto quest'anno si san valentino è il giorno in cui con il nostro partner possiamo finalmente osare amore cricetuccio dorato i bimbi sono a letto ah si finalmente possiamo fare qualcosa che rimandiamo da tanto tempo si andiamo a rimettere subito negli scatoloni l'albero di natale e tutte le palline è un giorno speciale sia per i giovani che per i più maturi caro oggi è san valentino e ti ricordi quando avevamo vent'anni e sul divano dei tuoi genitori mi mordichiavi sempre il collo e perché non lo fai ancora e va bene e corro dove cazzo vai a prendere la dentiera ma soprattutto tesoro oggi è il giorno in cui possiamo dedicare del tempo e regalare qualcosa di importante a chi amiamo veramente sì a noi stessi guarda mi son comprato la playstation col caschetto per la realtà virtuale e senti ci sono anch'io lì dentro volendo sì bene allora la cena romantica continua pure a farla lì dentro cameriere cosa succede avevi finito i nervetti che ne dici di fare un po di sesso sul carrello dei bolliti sempre a mille mi tocca dai aspetta aspetta tesoro stavo scherzando ecco il mio regalo due biglietti per un viaggio nelle isole caraibiche grazie amore è fantastico anche stavolta la mela sbusa ma quello è proprio nel nostro ristorante non ci credo sei tu mario draghi buongiorno e buona giornata lo sai che sono una tua drag queen ho tutti i tuoi dischi mario prendimi portami in un cavo e spaccami come hai fatto coi 5 stelle è un momento difficile ho qua due biglietti per i caraibi rilanciare il paese sono le sfide che ci confrontano sì lo so devi lavorare per l'italia che ne dici di farlo in smart working buon san valentino a tutti